Non hai scelto il suicidio. Mi chiamo Massimiliano, ho 33 anni e sono nato con un grave disturbo da deficit di attenzione e iperattività che ha dato origine in adolescenza ad un disturbo ossessivo compulsivo. Ho sempre avuto problemi a socializzare con gli altri. Tuttora sono vittima di immagini e di pensieri ricorrenti e non voluti su tutto ciò che è disgradevole potrebbe accadere e anche dopo molti anni di visite psichiatriche mi sono trovato di fronte a due possibilità, il suicidio o l'accettazione della mia condizione. Ho scelto la seconda. Non è facile, lo ammetto, però la considero l'unica arma per sopravvivere. Vi abbraccio con tutto il cuore. Massimiliano da Roma Commento Caro Massimiliano, ti ringraziamo per averci iscritto e perché non hai scelto il suicidio. Se ti fossi suicidato non avresti fatto altro che tracinare ciò di cui adesso hai bisogno in una prossima vita. Complimenti per la tua scelta.